Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. Durante il suo periodo di riposo in Sicilia, Vittorio Sgarbi ha vissuto un incidente spiacevole, passionato d'arte, stava esplorando il parco, archeologico Zubia Palma di Montechiaro, ad Agrigento, mentre si dirigeva verso la Grotta Azzurra, ha avuto un incidente che gli ha causato un infortunio alla mano, nonostante la sua ferita, ha continuato con determinazione, raggiungendo il suggestivo litorale agrigentino e la riserva naturale di Punta Bianca, qui, ha ammirato la madonnina vicino. All'ex casa dei doganieri. La sua risolutezza è rimasta forte, nonostante le piccole ferite, quest'episodio non ha scalfito la fama di Sgarbi, notevole non solo per il suo carattere deciso, ma anche per le accese discussioni televisive in cui primeggia. Grazie per la visione e al prossimo video! Ehi, non mancare!